uno spray al peperoncino è stato spruzzato in una scuola di pavia da come si legge nel web 30 sarebbero i ragazzi che si troverebbero in ospedale per gli accertamenti del caso il 118 si è reso necessario a pavia all'interno di una scuola che non è specificato di quale si tratta per diciamo così soccorrere i 30 fanciulli in questione si sta parlando molto di sparare peperoncino ultimamente visto e considerato quello che è successo pochi giorni fa a Corinaldo in provincia di Ancora nelle regioni Marchi per via di un concerto di sfere basta dove pensate ben 6 o 5 persone hanno perso la vita 23 feriti tra codice verde, rosso e giallo insomma unica doma in piena regola quella che si è verificata in provincia di Ancora e di cui già ho avuto il doppio c'era avuto diciamo così l'onere di informarvi diffusamente adesso in questa scuola di pavia c'è da rimanere veramente scioccati, interdetti a volte si può addirittura emulare un comportamento sbagliato in questo caso mi sento di dire perché tutto ciò un saluto caro il video termina qua iscrivetevi al prossimo